Le ceneri di San Giovanni Battista della Sal, grande pedagogista che attraverso i suoi fratelli delle scuole cristiane creò nel mondo numerosi istituti per l'educazione della gioventù, trasportate durante una delle tappe del viaggio verso Roma alla cattedrale di Torino, dove sua eminenza il cardinale arcivescovo Fossati ha ricevuto in consegna le sacre reliquie per esporle alla venerazione dei fedeli. Grazie